Allora eccoci, buongiorno, ci troviamo in via Montaldo a metà della via in un appartamento di 6 vani e mezzo posto al terzo piano che adesso vado a mostrarvi. Dalla porta di accesso, posta alle mie spalle, guadagniamo subito la zona giorno, composta da un ampio ingresso vivibile e un'ampia stanza doppia, pianta regolare, luminosissima, dotata di doppia finestratura. La vediamo. Successivamente la zona giorno si completa di una cucina abitabile. La zona notte invece è caratterizzata da due stanze, una di queste, questa è la prima, vista aperta, mentre la seconda è dotata di doppia finestratura anch'essa e balcone. Riguadagniamo l'interno, questa volta ci portiamo nel bagno. Anche questo è dotato di finestra e dispensa, che è questa parte, adesso è stivata ma è una bella dispensa. Come avete potuto vedere il riscaldamento è centralizzato con le valvole termostatiche, la casa è molto molto luminosa e si presta poi diverse ipotesi di ristrutturazione e modifica degli spazi interni. Qui direi che la nostra visita si può concludere invitandovi presso la nostra sede Fondo Casa di via San Fruttuoso, Otto Rosso. Grazie